Mille test effettuati a studenti delle superiori ma non solo, anche a docente e personale, in procinto di rientrare a scuola vista l'alternanza della DAD. Un solo test positivo che ora andrà confermato con il molecolare e messo sotto tracciamento ASL. È il bilancio dello screening all'Aquila che si è appena concluso due giornate, il secondo riservato alle scuole. Il comune dell'Aquila ha messo in campo tanti strumenti per la prevenzione dall'inizio dell'emergenza e così continuerà a fare, mettendosi a disposizione delle ASL anche per la campagna vaccinazioni. Sicuramente abbiamo messo un grande impegno, complessivamente ad oggi abbiamo testato quasi 30.000 persone, 30.000 soggetti, a partire dai 23.000 dello screening sull'intera popolazione cittadina, siamo passati ai 5.000 prima ondata di studenti che rientravano a scuola dopo le vacanze di Natale, quest'altro era calibrato per coloro invece che rientravano a scuola scaglionati rispetto alla percentuale del 50 o 75%. È sicuramente un ottimo risultato soprattutto perché coincide il fatto che troviamo sempre meno positivi e questo di fatto viene confermato anche dai test molecolari, quelli che prescrive invece l'ASL. La curva del contagio si è abbassata di molto, leggo conferme anche nelle dichiarazioni di alcuni primari dell'ospedale, a partire dal dottor Alessandro Grimaldi, che dà un quadro migliore rispetto a quello che ci si attendeva. Il prossimo passo, annuncia Biondi, è uno screening per i ragazzi in procinto di riprendere l'attività sportiva, come è stato già parzialmente fatto per i ragazzi del nuovo basket aquilano, che ripartono con l'attività cestistica e come a breve faranno anche i ragazzi della Reg Experience. Si può commivere con il virus, nel frattempo noi ci siamo messi a disposizione anche dell'ASL per supportare logisticamente la campagna vaccinale, faremo un nuovo screening questa volta riservato ai ragazzi che ricominciano l'attività sportiva perché va tenuto conto anche l'aspetto sociale di questa epidemia e speriamo che l'Aquila riesca a mantenere anche in questa circostanza una linea di condotta corretta. Grazie.